Si tiene oggi a Caltanissetta, nella sala conferenza dell'hotel San Michele, l'evento BEIN decima edizione, corso di neuroradiologia, protocolli e casistica ragionata, dell'Associazione Italiana di Neuroradiologia. Responsabile scientifico del corso, il dottor Giuseppe Vaccaro. L'importanza di questo evento? Questo è un evento importante perché intanto è un corso interattivo, nel senso che si presentano dei casi clinici particolari, sono patologie tumorali, patologie infiammatorie, patologie vascolari e si discutono i casi, l'iter diagnostico, quali sono le intagini da fare, quale deve essere l'iter, se prima fare TAC, risonanza. Quindi serve proprio a un impatto pratico per tutti i radiologi che partecipano, i radiologi siciliani. Abbiamo avuto un buon successo di presenze perché c'è sete di apprendimento. Come ho già detto altre volte, ormai tutti gli ospedali siciliani sono dotati di apparecchiature RM ad alto campo. Quindi sono delle bellissime apparecchiature, sono delle Ferrari e bisogna ora preparare i piloti per prendere il massimo da queste apparecchiature. Oggi si conclude una quattro giorni di formazione. Già dal 26 a martedì, martedì e mercoledì, c'è stato un corso per tecnici di radiologia. Perché anche loro sono importanti, bisogna lavorare assieme per arrivare a un risultato buono per il paziente, una buona diagnosi. Lei prima ha dichiarato che è soddisfatto sia di questo corso di aggiornamento e sia dell'attività che viene svolta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Beh certo, sono soddisfatto perché ho visto che il format di questo corso è un format assolutamente dinamico e tra altre cose stimola molto i partecipanti che in buona parte sono dei partecipanti giovani quindi che possono attingere in un percorso, su un caso clinico, quella che è l'esperienza dei più anziani. Ritengo che questo sia il format più adeguato per trasmettere informazione e per stimolare un ragionamento che porti ad una diagnosi corretta. E quindi sono i format che secondo me sono di gran lunga superiori al format dove c'è una relazione frontale anche da un luminare però non viene recepita in modo così dinamico dall'uditorio. Ecco perché sono contento del format. Per quanto riguarda l'attività della nostra azienda con l'attività di risonanza magnetica in particolar modo al Sant'Elia. E certo c'è una bella struttura, abbiamo due belle risonanze, abbiamo dei professionisti che sono assolutamente adeguati in condizione di far lavorare bene queste macchine. Quindi sono quelle cose su cui bisogna puntare per rilanciare quella che è la credibilità della nostra struttura nei confronti della popolazione. La neuroradiologia oggi che progressi ha fatto? La neuroradiologia è uno dei campi, una delle discipline che ha subito negli ultimi anni un'evoluzione enorme per due motivi. Da una parte l'avanzamento tecnologico. tecnologico siamo partiti con indagini che ormai sono state completamente abbandonate e oggi abbiamo risonanze magnetiche che oltre a mostrarci una forma del tessuto cerebrale con le sue patologie in maniera molto dettagliata ci consentono addirittura di studiare il funzionamento del tessuto cerebrale. Quindi uno studio morfologico e funzionale. Accanto a questa parte esclusivamente diagnostica si è sviluppata tutta la parte di neuroradiologia interventistica per cui il trattamento di patologie endovascolari quindi navighiamo nei vasi, raggiungiamo le malformazioni cerebrali vascolari e le chiudiamo dall'interno. Interventistica anche vertebrale con trattamenti diretti sulle vertebre o sui dischi per trattare crolli vertebrali o patologie discali. Quindi un avanzamento tecnologico diagnostico e un avanzamento tecnologico terapeutico.